E' nessuno che dice, puttana, chificata tra terra e cammino, ma dovrebbe con nessuno che l'ultima scena che lo sta portando senza puttana in terra e in terra. E' un paese, come un'amore cedera. Da voce alle donne e far riflettere sulla condizione femminile lo spettacolo di Saverio La Ruina, dissonorata a un delitto d'onore in Calabria, andato in scena al Cineteatro Bellocchio, nell'ambito della rassegna a Mimì del Teatro Festival Ferrandina. Uno spettacolo pluripremiato, di grande impatto emotivo, una rappresentazione profonda tra il tragico, il grottesco, il surreale e la storia commovente di una donna del Sud Italia. Niente, niente, niente. C'è una brutta bucciata, c'è una brutta bucciata, c'è una brutta bucciata, c'è una brutta, c'è una brutta, c'è una brutta, c'è una brutta, c'è una brutta. E' uno spettacolo che spesso è stato portato in giro anche per la festa della donna, come anche per la giornata contro la violenza di novembre, perché è comunque un lavoro dove una donna che prima organica in qualche modo a quella cultura, attraverso questa esperienza, riesce poi a vedere le cose anche un po' da fuori e in qualche modo a riscattarsi. Nella sua semplicità, perché in fondo è una contadina, una pastorella, alla quale il destino gli ha dato una vita molto complicata. E nonostante questa, lei finisce, nonostante appunto costretta a camminare a testa bassa, come prima era costretta dalla cultura, poi invece da un fatto fisico che le succede o che l'uomo le procura. e quindi questo, nonostante questo, lei comunque non le tolgono il sorriso, no? E' l'ironia, quindi la capacità comunque di, alla fine, di reagire a questo mondo. ... ... sargon più esatibola di nessuno stesse basse, non si vede c'era un uccello, non si fosse nato un tanzo maggiore. Sì, sì, bene.